L'arte è la fonte di tante ispirazioni. Per me è stata, come dire, per tanti anni, da quando sono partito, è stata sempre una fonte di musei nel mondo, viaggiando. Ho sempre visto l'arte come veramente qualcosa di superiore. Tutto nasce dall'arte. È lo spazio Sugar in piazza San Francesco ad Arezzo ad ospitare la mostra di Veronica Montanino, Gift, Dono. Un non luogo nella piazza più importante di Arezzo, scelto da Fabio Migliorati per curare il lavoro dell'artista romana. Uno spazio inedito e inconsueto, non preposto all'arte, ma a pochi passi dalla leggenda della vera croce di Piero della Francesca. Un posto rimesso a nuovo, come si deve, neutro, che accoglie la cultura contemporanea come una forma di invasione garbata. Il lavoro di Veronica Montanino parla di questo, di appropriarsi di uno spazio attraverso l'identità di tutti. Io ritengo che l'arte non debba essere un commento della realtà, ritengo che sia una trasformazione sempre quella della rappresentazione. Dunque, diciamo che allontanarmi quanto più possibile dalla cronaca, dalla realtà, sia il compito che l'artista ancora oggi si deve dare. Ma non per una questione di essere impermeabili rispetto alla realtà, ma perché l'artista ha proprio il dovere di immaginare qualcosa di diverso rispetto alla realtà. Eccessiva e al tempo stesso mimetica, la mostra si confonde infatti con le decorazioni e gli addobbi dei negozi e delle abitazioni del centro. Ha anche una finalità benefica, sarà infatti in favore del Calcit. Fare questa cosa per l'arte, in più riuscire anche a donare un po' qualcosa, diciamo, a qualcosa che deve fare del bene, è un momento per me veramente speciale. Credo che, insomma, dobbiamo farlo più spesso queste robe, dobbiamo essere molto più pensate agli altri che hanno bisogno più di noi.